10 euro, sono il sergente istruttore Ubi e a questo ESC sarà la vostra guida, sarò come vostra madre, sarò come colui che ha scritto il software che utilizzate, è chiaro? Sì, signore! Perfetto, qui noi accettiamo Gentaglia che usa Windows, Gentaglia che usa Mac OS X, ma predileggiamo Gentaglia che usa Linux, non sentiamo sulla nostra messa il software nazionale, è chiaro? Sì, signore! Tu, come ti chiami soldato? Mi chiamo Seba, signore! Ah, soldato Seba, tu da oggi sei soldato Pangolino Preciso, d'accordo, soldato? Sì, signore! Molto bene! Sei proprio tu, Capitano Crunch? E allora io chi sarei? Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Eh, non è stato nessuno, eh! Sarà stata la fattina buona del cazzo, ma io vi ammazzo a suon di grappa e di coding, vi faccio venire i grappi al pegato! Tu, sei stato tu, soldato Manuel? Signor, sì, signore! Mi sei simpatico, soldato Manuel! Sì, 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 mi sei simpatico, soldato Manuel! Vieni a casa e ti faccio usare il mio computer, d'accordo? Signor, sì, signore! Bene! Allora, pronti per un altro ESC? Potete andare!